e non stiamo parlando di calcio vi chiedo scusa però a volte sconoscire perché so sentire toni e sposi toni e sposi si calimba da luna una cosa fresca una cosa recente e volevo dire questo è uscito questo argomento che cos'è la mazzocca la mazzocca che io ho chiesto che cos'è la mazzocca uno ha detto mazzocca mazzocca che cos'è la mazzocca siccome lo usa tutto la mazzocca è la pennellessa il pennello largo che fa i muri io lo conoscevo come pennellessa infatti siccome a roma il burino il burino romano quindi il tifo di roma il burino il burino il tifoso della lazio la persona greve della lazio io non sapete che squadra è quello lo dici tu la persona lì l'operatore insomma il caffone si era troppo raffinato come facciamo a renderlo burino per più all'altro chiamamolo mazzocca la mazzocca mi passa la mazzocca devi mettere un po' da bocca con lui è più burino che poi questo porta anche a riferimenti sessuali si dobbiamo dire una mazzucca la mazzucca la mazzucca mi passi la pennellessa la vicchione no vicchione afro no afro no afro con la v avro no con la c con la g avro giù avro con la bocca con questa omofobia c'è l'omofobia represa patente sempre il laziale io non so io burino di fuori questo lo dici mazzocca quindi mazzocca era più affine affine come come nome come suono a livello basso del esatto amazzocca perfetto era troppo raffinato pennellessa allora diteci che cosa avete mai maneggiato la mazzocca non è tutta ma no così per giocare ok chiudio